Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. A due anni dal terremoto, l'ufficio stampa e il centro video di Palazzo Cesaroni hanno realizzato un documentario che ripercorre le varie fasi, dalla emergenza alla ricostruzione. 24 agosto 2016, ore 3.36. Una scossa di magnitudo 6, con epicentro a 1 km ovest di Accumoli, squassa un'ampia area del centro Italia, provocando oltre 300 morti e quasi 400 feriti, quasi tutti, nella zona compresa tra Amatrice e Accumoli, nessuno in Umbria. Il 30 ottobre la terra torna a tremare alle 7.40, questa volta con una forza ancora più devastante, magnitudo 6.5, con epicentro a 4 km a nord-est di Norcia. Anche questa crisi non ha provocato morti e feriti in Umbria, ma se il 24 agosto il territorio umbro sembrava aver retto abbastanza bene, malgrado i danni, il 30 ottobre la terribile onda d'urto, che nella linea di Faglia farà sprofondare il terreno di oltre 70 cm, provoca crolli e devastazioni in un vasto territorio, compreso tra Norcia, Preci, Cascia, Monteleone di Spoleto. A livello Umbro le difficoltà sono state abbastanza gestibili, in quanto fortunatamente non avevamo vittime e l'assenza di vittime aiuta a lavorare con tranquillità. Nel discorso più complessivo è chiaro che la vastità e coinvolgere quattro regioni diversi in un territorio montano con una viabilità abbastanza difficile da percorrere ha creato alcune difficoltà per raggiungere in tempi rapidi queste realtà. Nelle prime ore dell'alba poi sono alzati in volo gli elicotteri, hanno portato i nostri soccoritori sul posto anche via aerea, aiutando anche le squadre a dirigersi nei posti in cui c'era più bisogno del soccorso e dei vici del fuoco. Il 30 ottobre di due anni fa, subito dopo la scossa, fummo allertati e la situazione si presentò immediatamente molto delicata. La centrale operativa del 118 ci ha immediatamente contattato, numerose erano le richieste di intervento, di soccorso, non soltanto nelle zone dell'epicentro ma anche in territori un pochino più distanti. Sicuramente il sisma del 2016 sia nelle scosse del 24 agosto ma soprattutto dopo il 30 ottobre, le grandi scosse del 30 ottobre, ha prodotto un livello di danneggiamento così esteso e così profondo che non avevamo dubbi avrebbe comportato una serie di difficoltà sia nella protezione della popolazione sia nell'avvio della fase della ricostruzione. Lesionati e seriamente inaccessibili i centri storici, messi in ginocchio siti industriali, artigianali e commerciali, sedi di pubblici servizi, luoghi di culto, stravolta la viabilità, isolato e distrutto all'80%, Castelluccio di Norcia, nel cuore dell'Alto Piano che caratterizza fortemente il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, dominato dal Monte Vettore, che sul fianco mostra la lunga ferita del punto di rottura della faglia. Castelluccio, il presidio umano più alto dell'Umbria e dell'Italia peninsulare, quasi cancellato dal sisma ma che nei due anni trascorsi ha assunto un alto valore simbolico di resistenza e rinascita. Il nostro intervento è stato anche quello di essere vicini alle popolazioni attraverso una presenza costante, continua, rispetto all'ascolto di tante esigenze, di tante questioni legate anche agli aspetti umani di questa vicenda e anche a quelle simboliche. Ne voglio ricordare una tra tutte che è stata appunto con la comunità di Castelluccio nel momento in cui abbiamo cercato di restituire parte di una normalità attraverso il dono di un quadro che è stato appunto realizzato da Matteo Tassi e che voleva rappresentare la voglia di contribuire a quella rinascita a cui stiamo guardando con grande determinazione e convinzione. Ma anche nel resto del cosiddetto cratere i danni sono rilevanti. Ad Arrone, Ferentillo, Montefranco e Polino in provincia di Terni e poi a Cerreto di Spoleto, Poggio Domo, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Spoleto e Vallo di Nera in provincia di Perugia. Dal 24 agosto 2016, al 6 agosto 2018, sono state registrate oltre 92.500 scosse, 7 di magnitudo superiore a 5, 12 superiore a 4 e 3.500 di magnitudo uguale o superiore a 2,5. dall'inizio dell'emergenza ad oggi sono stati effettuati oltre i 46.000 sopralluoghi, 10.000 gli edifici danneggiati, sono 7.412 le persone assistite, 5.206 in autonoma sistemazione, 1.762 nelle SAE, le soluzioni abitative d'emergenza e 174 nei MAPRE, i moduli abitativi provvisori d'emergenza. Cosa ci insegna l'esperienza dell'Italia centrale e dentro questa dell'Umbria? Che forse l'Italia si deve dotare di una legge quadro che permette in automatico di gestire le fasi delle emergenze, cioè quali diritti hanno i cittadini immediatamente senza perdere una parte iniziale che è molto delicata, quella in cui le persone si trovano fuori dalle abitazioni con un quadro normativo già definito e non come accade oggi, che ogni volta che c'è una calamità il Parlamento deve darsi delle norme per gestire questa calamità. La solidarietà concreta di privati cittadini, fondazioni, aziende e istituzioni ha permesso già dai primi mesi dal sisma di mettere a disposizione delle comunità strutture scolastiche e sociali, per ricostruire anche nell'emergenza il tessuto sociale strappato dal sisma. Molto è stato fatto in questi due anni nel passaggio dall'emergenza alla ricostruzione che ora sta entrando nel vivo. Ma molto resta ancora da fare. Sul cospicuo numero di edifici danneggiati sono ad oggi 1.300 le pratiche avviate, 370 i cantieri avviati, 70 i lavori conclusi. La ricostruzione è iniziata. Nei mesi estivi abbiamo avuto una forte accelerazione, tanto che rispetto ai dati che avevamo di febbraio, a distanza di sei mesi abbiamo avuto un aumento del 60% sia delle pratiche presentate che delle concessioni contributive rilasciate. L'Umbria ha rilasciato 330 concessioni contributive, di queste 70 sono conclusi i lavori, sono lavori conclusi e 260 cantieri in essere, per cui come si vede già sono centinaia ormai i cantieri avviati. Con le pratiche in lavorazione e quelle che sono presentate, complessivamente noi abbiamo 1.200 pratiche presentate, il che vuol dire una percentuale di circa il 15% del totale delle pratiche che noi ci aspettiamo saranno presentate per la ricostruzione. Ma oltre alle abitazioni private, beni culturali, edifici pubblici e luoghi di culto, la crisi sismica ha colpito duramente il sistema produttivo. Sono 393 le domande di delocalizzazione di attività produttive, commerciali, di servizio, per il 90% provenienti dai comuni di Norcia, Cascia e Preci, che gradualmente stanno ricominciando ad operare. Per contribuire al riavvio di attività agricole e di allevamento, sono stati messi a disposizione 242 strutture prefabbricate, tra moduli per ricovero animali e deposito. Nei nuovi siti si sono riavviate le prime attività commerciali e artigianali, a Norcia, Preci, Cascia, Castelluccio di Norcia. E ha ripreso ad operare un importante presidio socio-sanitario, come il Centro di Riabilitazione Intensiva di Cascia. Dobbiamo adesso aprire la fase in cui è necessario recuperare tutti gli spazi pubblici che sono stati in parte danneggiati dal terremoto e in parte utilizzati per la gestione dell'emergenza. È assolutamente necessario restituire alla comunità questi spazi per far sì che anche da questo punto di vista, per quello che riguarda il contesto urbano, si possa apprezzare una ripartenza. Fatichiamo invece ancora a far partire la ricostruzione, alcune decine di cantieri di ricostruzione leggera hanno finalmente aperto i battenti, per così dire fatichiamo, dicevo, a far partire la ricostruzione pesante. La condizione è in leggero miglioramento, si apprezzano alcuni segnali, anche le norme hanno probabilmente capito che vi è bisogno di semplificare, abbiamo bisogno di alleggerire le fasi istruttorie di determinazione del contributo, abbiamo bisogno di migliorare il rapporto che esiste tra l'ufficio speciale della ricostruzione e i professionisti, il quadro normativo è molto rigido, quindi c'è assolutamente bisogno di una stretta, strettissima collaborazione. Noi siamo proiettati per la ricostruzione, naturalmente la cosa importante su cui teniamo molto e vogliamo accelerare, vogliamo velocizzare, vogliamo realizzare è la ricostruzione, perché sappiamo solo che attraverso questa fase il Paese riprende la sua attività, recupera il tempo perso, però questo, devo dire, trovano poche difficoltà. Sono arrivati i primi decreti di intervento, di ricostruzione per quanto riguarda i privati. Un bilancio ovviamente sulla parte della messa in sicurezza, abbiamo fatto circa il 90%, poi le casette sono state tutte consegnate il 27 aprile 2018, le delocalizzazioni, le prime sono state finite, quelle che sono arrivate le domande successive ne sono rimaste due o tre che devono essere sistemate. Alcuni cantieri dei danni leggeri stanno partendo, alcuni addirittura sono finiti, quello che manca sono praticamente le che ancora non abbiamo avuto inizio di nessuna. Sono state soprattutto le criticità legate alla tanta burocrazia che ci ha visto impegnati sia nel periodo che ha riguardato tutta l'emergenza, siamo ancora in questo periodo, che le difficoltà legate alla ricostruzione. Nel nostro territorio i danni sono stati diversi e quelli più forti sono stati quelli ai centri culturali, quindi le chiese, a tutto quello e alle seconde case. La Regione Umbria ha offerto un ausilio normativo attraverso una specifica legge regionale, votata dall'Assemblea Legislativa a ridosso del secondo anniversario del sisma, con l'astenzione delle principali forze di opposizione. Una legge che si propone di rendere più efficaci, di calate nella realtà regionale Umbra le norme nazionali per la ricostruzione e che produce una serie di strumenti innovativi, definiti nel Master Plan per lo sviluppo dei territori della Valnerina e dello Spoletino, maggiormente colpiti. Oggi abbiamo certezza di risorse economico-finanziarie, sia per tutti gli interventi pubblici più importanti nei comuni del cratere, penso all'edilizia scolastica, all'edilizia sanitaria, ai beni culturali e a moltissime opere pubbliche che sono state gravemente danneggiate dal sisma. Ma soprattutto si è costruito un quadro finanziario che dà certezza ai cittadini sulla propria ricostruzione, quella privata, cioè l'automatismo che è stato previsto nel meccanismo di contribuzione fa sì che i cittadini decidano anche i tempi e le modalità con le quali avviare la ricostruzione delle prime e delle seconde abitazioni di tutti gli edifici privati che sono destinati ad attività economiche. Ma all'indomani dell'approvazione della legge Umbra, un emendamento al decreto cosiddetto Genova ha tolto ai presidenti delle regioni, vicecommissari alla ricostruzione, il potere di condivisione sulle ordinanze commissariali, una decisione che di fatto declassa la funzione dei presidenti e vicecommissari a mero potere consultivo. L'antichissima storia di questa parte preziosa dell'Umbria suggerisce che anche questa volta la vita sociale, economica, culturale ricomincerà a fluire e a svilupparsi. Grazie alla forza di queste popolazioni, alla loro ormai comprovata capacità di resilienza, unita alla saldezza delle istituzioni locali e regionale, che nei decenni hanno saputo sviluppare con il contributo di tutte le rappresentanze politiche un'azione legislativa, amministrativa e di governo efficace, sia nella risposta di emergenza agli eventi calamitosi, sia nella fase della ricostruzione. Il sindaco sta avendo energia dai propri cittadini perché rileva voglia di fare, voglia di tornare a operare, voglia di tornare a lavorare, voglia di tornare a crescere. Quindi confermo che intorno ai ruderi della Basilica di San Benedetto, intorno alla nostra piazza principale, quindi intorno alla concattedrale di Santa Maria Argente, al nostro municipio, alla nostra piazza che è stato da sempre il nostro salotto, ricostruiremo la nostra città più bella e più sicura di prima. Due anni, giorni, ore, minuti caratterizzati sempre da quella voglia di tornare a vivere un territorio tra i più belli e caratteristici d'Italia. Prezioso patrimonio di chi lo vive da protagonista, prezioso soggiorno di chi lo sceglie per immergersi nella natura. Una parte di Umbria che disegna fotografia e cornice di una storia fatta di arte, cultura, sapori e straordinario paesaggio. Questo è il documentario realizzato dall'Ufficio Stampa e dal centro video di Palazzo Cesaroni. Ora i commenti sulla fase attuale da parte dei capigruppo consigliari dell'Assemblea legislativa. L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato recentemente un testo unico in materia di sisma che cerca di semplificare le procedure, il rilascio delle autorizzazioni urbanistiche. Attraverso il piano di sviluppo della Valnerina vuole coniugare la ricostruzione con lo sviluppo economico e inoltre vuole dotare la ricostruzione di strumenti di qualità attraverso il piano paesaggistico regionale. Nei prossimi anni dovremo porre attenzione a due elementi e chiedere al Governo nazionale che impegni le risorse necessarie per le quattro regioni del centro Italia, 23 miliardi di euro, nonché modifichi il codice degli appalti per semplificare ulteriormente le procedure. L'Umbria rispetto alle altre regioni colpite dal sisma è sicuramente più avanti soprattutto per quello che è riguardato l'assegnazione delle residenze temporanee, delle cosiddette casette e ora abbiamo dei ritardi, delle lentezze, soprattutto dal punto di vista burocratico per la ricostruzione, per le procedure della ricostruzione. Questo mi è stato segnalato negli incontri vari che ho fatto con cittadini, associazioni di cittadini, associazioni di categoria e quindi bisogna snellire di più queste pratiche burocratiche. Devono essere secondo me potenziati anche gli organici degli uffici perché lì c'è carenza di personale, di dirigenti in grado di svolgere e rispletare rapidamente le pratiche e quindi bisogna, secondo me, potenziare. Ne ho parlato con l'assessore in più occasioni, penso che ci sia la volontà di prendere atto di questa situazione e di affrontarla cercando di risolvere le questioni. A due anni dal terremoto il giudizio sulla gestione va diviso in due parti, sulla gestione dell'emergenza dove sicuramente c'è stata un'ottima risposta da parte delle istituzioni locali, del comune, dalla regione e anche dallo Stato perché noi nel gestire l'emergenza siamo sicuramente molto bravi e oltre al grande esempio di solidarietà dimostrato da centinaia e centinaia di popolazioni umbri, di cittadini umbri in tutta la regione. Quindi ottimo il giudizio sulla fase della gestione dell'emergenza, pessimo sulla fase successiva che è quella della ricostruzione perché a distanza di due anni la ricostruzione non è partita. Si è partito con pochissime ricostruzioni veramente irrisorie, abbiamo ancora tutte le frasi che riguardano lo smaltimento delle macerie che non sono state attuate e quando a Berlino, lo dico sempre, nel 1945 ci hanno semesso per rimuovere le macerie, quindi pessimo il giudizio sulla ricostruzione, ottimo per quanto riguarda la fase dell'emergenza. Un evento che ha comportato uno stato di emergenza continuo per diversi mesi che ha sicuramente reso molto complesse le opere di emergenza e di soccorso. A tutto questo va decisamente correlato anche la difficoltà che il sistema di protezione regionale già manifestava da tempo ma che poi con questo evento è venuto alla luce. Le successive operazioni di preparazione di alloggi di emergenza e quant'altro hanno manifestato grandi problematiche che poi abbiamo rivisto tutte a distanza di due anni. Ora, noi confidiamo che le opere di ricostruzione, al di là delle difficoltà, anche normative che sono emerse in questi ultimi mesi, potranno avviarsi in maniera decisa e rapida. Si poteva fare un po' meglio se avessimo ripercorso fino in fondo il modello Umbro. Il modello Umbro significava che ogni regione gestiva l'emergenza in prima persona. Questa scelta di unificare per tutta l'Italia centrale il governo dell'emergenza attraverso un commissario, secondo me non è stata. Io spero e auspico che per la ricostruzione si torni ad avere un commissario per la Regione che sia il Presidente della Regione come è stato in altri casi. Quindi da questo punto di vista, insomma, certo anche alcune regole, alcune situazioni che probabilmente hanno creato un po' di farraggiosità nell'attuazione, però complessivamente credo che ci troviamo di fronte a una risposta positiva che, come ho detto, si misura e si dimostra anche rispetto a quello che probabilmente non è successo nelle altre regioni vicino a noi. Beh, insomma, due anni sono passati, il bilancio non è un bilancio soddisfacente perché ci sono stati troppi ritardi, troppe lacune, quelle zone sono state messe a dura prova, sono zone che stanno dimostrando resilienza, stanno dimostrando la voglia di ripartire, ma occorre che si cambi passo. A livello regionale è stata approvata nelle scorse settimane una legge che si prefigge appunto di dare qualità e velocità alla ricostruzione. Come Forza Italia abbiamo cercato di dare il nostro contributo, apportando anche dei miglioramenti al testo presentato dalla Giunta. Nel corso del dibattito alcuni dei nostri emendamenti sono stati approvati, ci auguriamo che questo strumento, che non è un strumento perfetto, ma speriamo che possa contribuire a imprimere un passo più determinato e più veloce a una ricostruzione che è necessaria per salvaguardare il sviluppo di queste zone così importanti per la nostra regione. La problematica, la grave criticità del post-sisma 2016 è tutta racchiusa in una normativa assolutamente inadeguata. Quello è lo snodo fondamentale per ripartire, per andare oltre gli affarismi del post-emergenza, per cercare di ricostruire le nostre comunità anche dal punto di vista naturalmente socio-economico. Sovrapposizioni normative, ordinanze commissariali, ordinanze di altro genere, ente parco, soprintendenze, gli interventi di svariati enti non fanno altro che accrescere le problematiche esistenti. I professionisti dovrebbero avere assoluta centralità anche per alleggerire il lavoro degli uffici speciali della ricostruzione. La sismica nella nostra regione in particolare dovrebbe avere un organico più ampio. Ci sono tutta una serie di questioni che possono essere affrontate operativamente con cultura manageriale, ma dobbiamo metterci di buzzo buono sul tema della normativa, che dal livello nazionale a quello regionale va decisamente aggiornata. A due anni le criticità sono state molteplici, c'è stato un impiego di tempo per infinito, a tutte le sono dei problemi per togliere le macerie, per la ricostruzione, ci sono voluti oltre due anni ancora non sistemare la cosa, anzi nascono nuovi problemi, che vedono le casette piene di umidità e muffa e si trovano così costretti coloro che volevano rilanciare il territorio, che avevano messo una grande forza, una grande grinta durante il periodo delle scosse ad andarsene dal territorio. Dobbiamo evitare questo, assolutamente, dobbiamo dare speranza di rivivere il territorio, di rilanciare il territorio e spero con il nuovo governo e con il nuovo commissario si possa fare un ragionamento e dare risposte concrete per riattivare e ripartire veramente in modo serio e costruttivo, non come è stato fatto in questi anni, che è stato solo un prolungamento e non si è fatto niente di veramente concreto. Abbiamo, penso, affrontato bene tutta la fase dell'emergenza, dando soluzioni abitative a tutti e contemporaneamente la protezione civile con le istituzioni hanno dato vita al recupero di tutte le attività possibili, dalle attività educative scolastiche, alle attività economico-produttive, alle attività dell'agricoltura, della zootecnia e quindi la continuità dell'attività, della presenza su Norcia e sul territorio da Valnerina Colpito oggi permette di guardare con fiducia alla ricostruzione, che naturalmente presenta problematiche che vanno migliorate, tipo tutte le procedure di approvazione e tutti gli atti che bisogna compiere, però ormai passata la fase dell'emergenza la ricostruzione sta prendendo corpo e quindi anche tutte le pratiche che stanno per essere approvate, che sono in via di approvazioni, ne danno il segno di questo lavoro. Anche per questa edizione è tutto, vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria ed è disponibile anche in rete sul sito istituzionale dell'Assemblea Legislativa consiglio.regione.umbria.it e naturalmente anche su YouTube. Grazie per l'attenzione, arrivederci.